Dopo sei giornate del campionato di eccellenza, comanda ancora il Giulianova a punteggio pieno, battuto per la seconda volta dopo la sfida nei quarti di Coppa Italia, il Montesilvano. Netto 3-1 dei giallorossi che confermano essere squadra cinica, capace di colpire alla prima vera occasione di sigillare il risultato al termine di una gara giocata dinanzi a oltre 1.500 spettatori. Alle spalle del battistrada giuliese resistono la Renato Curiangolana, che ha espugnato con il risultato di 3-0 il campo di San Vito Chietino, imponendo la prima sconfitta stagionale alla Fossa Cesia, e l'Ovidiana Sulmona che si è portato a casa i tre punti dalla trasferta di Nereto, sempre più ultimo in classifica. Guadagna la quarta piazza all'Aquila di Massimo Epifani, 3-1 sulla Sante Gidiese. I Rosso Blu hanno dato l'impressione di essere in forte crescita e di poter recuperare ancora terreno, costruiti per vincere il torneo nei due scontri diretti con Giulianova e Torrese, hanno raccolto un solo punto. A proposito di Torrese, la strigliata di mister Cristofari alla squadra dopo la brutta sconfitta in Coppa Italia col Pontevomano è stata utile. La vittoria a San Buceto per 4-2 è stato un segnale forte e incoraggiante. Situazione opposta per la truppa di Donato Ronci, che è stato comunque confermato sulla panchina della formazione viola. Bel balzo in avanti in classifica per il Delfino Curi Pescara, che ha travolto nel primo tempo il Lanciano, ma che ha poi rischiato nel finale di subire la rimonta dei Rossoneri, sotto di tre reti alla fine dei primi 45 minuti. 3-2 il risultato finale. Quarta sconfitta consecutiva per l'Ortona, superato in casa dallo Spoltore nello scontro diretto per la salvezza. Il Pontevomano ha imposto invece lo 0-0 nel derby della Vallata del Vomano, col Castelnuovo, un punto d'oro per la truppa di Mister Cifaldi, contro i Neroverdi, sempre più impelagati nella lotta per la salvezza.